alba la presero in 2000 il 10 ottobre e la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1944 anche la disperazione impone dei doveri e l'infelicità può essere preziosa non si teme il proprio tempo è un problema di spazio non si teme il proprio tempo è un problema di spazio geniali dilettanti, un selvaggio apparata ragioni personali, una questione privata geniali dilettanti, un selvaggio apparata ragioni personali, una questione privata la facoltà di non sentire la possibilità di non guardare per non senso la logica, i fatti, le opinioni, le raccomandazioni occorre essere attenti per essere ladroni di se stessi occorre essere attenti luogo della memoria, pomeriggio di festa giovane umanità antica, fiera e indigesta cilopadano plumbeo, tenso, incantato e incredulo un canto partigiano, al comandante diavolo non temere il proprio tempo è un problema di spazio non temere il proprio tempo è un problema di spazio geniali dilettanti, un selvaggio apparata ragioni personali, una questione privata la facoltà di non sentire la possibilità di non guardare per quel senso la logica, i fatti, le opinioni, le raccomandazioni occorre essere attenti per essere padroni di se stessi occorre essere attenti occorre essere attenti per essere padroni di se stessi occorre essere attenti occorre essere attenti occorre essere attenti e scegliersi da parte dietro la linea gotica comandante diavolo, monaco vidiente giovane staffetta, ribelle combattente la mia piccola patria dietro la linea gotica sa scegliersi da parte la mia piccola patria la mia piccola patria Grazie a tutti. Grazie a tutti.